Amici di Obiettivo 100, vi aspettiamo anche questa domenica al bar colazione della Tiffany in corso fuercito. Vivo il carnevale! Ben trovati amici d'Obiettivo 100 a questo nuovo caffè della domenica mattina. Oggi parliamo di sinistra, tanta sinistra, forse troppa sinistra, ma perché si votano le primarie del Partito Democratico e noi abbiamo deciso di farne uno speciale di questo caffè. Ma prima di tutto invito, oltre che andare a votare le primarie, di iscrivervi al nostro canale, altrimenti non vi faranno votare le primarie, attivare la campanella, seguirci su tutti i nostri social e visitate il sito www.obiettivo100.it perché veramente di approfondimenti Cristiano e Daddy ultimamente sono delle mitragliatrici, ne tirano fuori tantissimi e davvero interessanti. Quindi mi raccomando visitate spesso e volentieri anche il sito. Ed eccoci qua amici, se io sono un ospite in mezzo, ma semplicemente io e Nick perché durante la settimana Nicola si è ammalato, ogni tanto si mette in mutua, anche in obiettivo 100 e quindi ho preso gli ospiti singolarmente, li ho interrogati e io e Nick recuperiamo le nostre chiacchiere da caffè della domenica mattina noi due. Oggi abbiamo come ospiti, nell'interrogatorio, come ho detto, Mattia Franceschelli, segretario del Partito Democratico di Centro, e Alessandro Cortesi, uno dei più giovani consiglieri comunali sempre ovviamente del Partito Democratico, il Consiglio Comunale sta anche facendo qualcosa in più che altre. Senti, ma perché hai preso questi due? Di cosa dobbiamo parlare oggi? Oggi, come ho già detto, parliamo di sinistra e primaria perché come sapete oggi si votano le primarie del Partito Democratico e si votano in tutta Italia, ovviamente, per eleggere il segretario nazionale che con buona possibilità sarà anche il candidato premier in elezione futura, se non l'ammazzano prima perché sapete che... Non sottovalutare il PD da... Esatto! Il Partito Democratico ha questo brutto vizio di scegliere un segretario e metterlo in cima, ma come parafulmine, non come segretario vero e proprio, speriamo in questo caso che invece ci sia un proseguio anche perché i candidati, Bonaccini e Lashline, sono candidati di peso, ecco, insomma, non hanno scelto sicuramente dei fantocci. Ma prima di tutto partiamo proprio dalle primarie, abbiamo chiesto a Mattia Franceschelli come segretario di darci qualche informazione in più dove si può votare perché si vota proprio oggi e anche l'importanza, il senso delle primarie. Quindi, godetevi Franceschelli! Grazie George! Allora, le primarie del Partito Democratico cosa sono? È il metodo per eleggere il segretario nazionale del Partito Democratico e anche l'assemblea nazionale del PD. Il PD è l'unico partito in Italia che non elegge il proprio segretario solamente consultando i propri iscritti, ma dà questa disponibilità a tutti i propri elettori, cioè a tutti quei cittadini che si riconoscono nei valori del Partito Democratico, si riconoscono come vicini in un qualche modo al partito e decidono di partecipare a questa competizione. Le primarie sono fissate questa domenica 26, si sfidano Stefano Bonaccini e Dalli Schlein, a 100 organizzeremo quattro seggi, uno a 100 alla Casa del Popolo del PD di fianco alle scuole Carducci, se il tempo lo permetto facciamo un gazebo fuori, lì davanti, se no si vota dentro, poi ci sarà un seggio a Renazzo per i residenti di Renazzo Corporeno Bevilacqua, un seggio a 12 Morelli per chi abita a 12 Morelli e Alberone e un seggio a Casomaro per chi abita nelle restanti frazioni. Speriamo che ci sia una certa partecipazione, la volta scorsa ci sono venuti circa 600 cittadini. È importante venire a votare le primarie proprio perché, visto che il partito mette a disposizione di tutti i propri elettori questa possibilità di partecipare alla scelta del segretario nazionale, è importante cogliere questa possibilità per dimostrare che c'è partecipazione, che la scelta del segretario non è una cosa maturata al segreto nelle stanze del partito, ma è una cosa profondamente condivisa dalla popolazione. Penso che le primarie dovrebbero essere valorizzate e apprezzate come un patrimonio da tutti. In altri Stati europei, ma è maggior ragione negli Stati Uniti, le primarie le usano tutti, destra, sinistra e in vari casi sono anche normate dalla legge nazionale, proprio per fare in modo che la selezione delle candidature, che sia il candidato presidente in un caso, i candidati al Parlamento nell'altro, sia fatta in maniera trasparente, democratica e meritocratica, si spera. In Italia ha iniziato il centro-sinistra a fare le primarie con Prodi nel lontano 2005, ha continuato questa tradizione, a volte usandole di più, a volte usandole di meno, il centro-destra non le ha mai fatte. Bisognerà chiedere a loro se un giorno si decideranno a farlo. Franceschelli parte subito dicendo che a sinistra ci sono le primarie, a destra no. È uno strumento democratico. Io mi ammetto, e come sapete non lo scondo mai che sono votato più a destra che a sinistra, che a destra mi sarebbe piaciuto avere le primarie. Berlusconi c'è stato un periodo che aveva proposte, aveva candidato al Fano, poi si è pentito. Si era fatto suggestionare. Io ricordo sempre che le primarie sono anche state quel meccanismo che negli Stati Uniti ci ha regalato Donald Trump, come... Ma lo dici, prendi te, lo dici come... Lascio che i videospettatori interpreti, nel senso che è una bella, secondo me è una bella modalità. Sono d'accordo con quello che ha detto Franceschelli, che forse andrebbe un pochino regolamentata a livello nazionale. Chiaro che ha pregi e difetti, ripeto. Tu dai al popolo la possibilità di scegliere chi poi dovrà amministrare il tuo partito, in questo caso parliamo del Partito Democratico, che è un partitone. Vox Populi, Vox Dei. Ci prenderanno, Bo? Allora, partiamo dunque dal presupposto che il PD è in punto di svolta, nel senso ha preso la mazzolata a settembre da Giorgia Meloni e dalla destra, quindi la sinistra non è che ha perso contro un centro moderato, un centro destra, ha perso contro la destra, quindi il popolo italiano ha un'espressione molto chiara. La sinistra, insomma, si trova a un punto di dover ritrovare se stessa, di essere competitiva a livello elettorale, di essere convincente e soprattutto di andare a recuperare, a mio avviso, l'elettorato del ceto medio, del ceto più povero, che in questa fase qua ha scelto di affidarsi alla destra più che alla sinistra. E questo è un fatto un po' storico. La sinistra in Italia è sempre rappresentato, diciamo, più la classe operaia. Sì, però dobbiamo essere, secondo me, obiettivi. Nel dire che questo è stato vero sicuramente fino a 15 anni fa, indicativamente. Negli ultimi 15 anni, secondo me, da Bersani in poi, per essere chiari, abbiamo visto un partito democratico che ha sofferto di grosse crisi emorragiche verso il centro, con gente che si è spostata più a destra, l'effetto Renzi, ma anche verso sinistra, con tanto elettorato del centro-sinistra che è finito, ad esempio, nelle ultime elezioni, in mano ai 5 Stelle. Per cui, è vero quello che dici tu, che la sinistra ha sempre rappresentato, ideologicamente e concretamente, un certo tipo di, chiamiamola così, classe o ceto sociale. Però sono già 10-15 anni che questa cosa non riesce tanto bene, no? No, infatti, è questo l'indicativo. Ha perso un'identità, o l'ha persa nei confronti degli elettori. Il PD fatica a trovare se stessa. Credo che, diciamo, il passaggio di Renzi abbia dato il colpo finale, diciamo, nella perdita della propria anima, perché Renzi, lo chiamavano il piccolo Berlusconi, c'è un perché, insomma, ha perso un po'. In questo caso qua, si presentano le primarie, due anime, diciamo, un po' differenti, Lish Line e Bonaccini. Bonaccini, dal mio punto di vista, è più pragmatico e meno ideologico. In realtà, poi, parlando con chi lo sostiene, mi ha fatto capire comunque che l'ideologia di base c'è. Mentre Lish Line rappresenta, forse, più l'ideologia, quella più, non dico più di sinistra, però più identitaria. Sono due visioni un po' differenti. Sì, io direi che forse è arrivato il momento di andare a sentire questi due rappresentanti dei comitati, perché ci spieghino loro che differenza c'è, che proposte ci sono. Esattamente, perché abbiamo scelto proprio Franceschelli Cortesi, perché sono rappresentanti dei due comitati locali, di Lidicento, di Stefano Bonaccini e di Lish Line. Partiamo da Franceschelli, che sostiene Lish Line. Allora, io ho scelto di sostenere convintamente Lish Line, intanto perché la conosco da tempo, non dico che è un'amica, però, insomma, di sicuro la conosco, siamo in buoni rapporti, ma soprattutto perché, politicamente parlando, in lei riconosco una grande coerenza con quello che dice oggi e con quello che ha sempre proposto nel corso della sua attività politica. Lillie è giovane, me la ricordo più di dieci anni fa, che nasceva dai comitati interni al PD, poi è diventata europarlamentare, è diventata vicepresidente della regione Emilia-Romagna, adesso è la nostra rappresentante dell'Emilia-Romagna alla Camera dei Deputati. In lei riconosco una coerenza e lei vedo l'opportunità per un partito democratico di cambiare davvero, sia volti, classe dirigente in generale, sia soprattutto proposte e mettere sul campo proposte chiare, che non sia il solito partito che dice va bene tutto, pur di non perdere consensi di qua e di là e alla fine invece perdiamo proprio i nostri elettori, ma una proposta chiara in termini di politiche del lavoro, in termini di politica ambientale, in termini di diritti, che faccia riconoscere il Partito Democratico come il vero punto di riferimento per il centro-sinistra e per chi si definisce progressista in Italia. Io sono stato molto soddisfatto di ricevere contatti da persone sia iscritte al PD, sia persone che non avrei neanche mai immaginato che potessero partecipare al PD per sostenere l'Ishline. Vedo in lei un fattore di aggregazione di tutte queste persone che nel tempo si sono un po' allontanate dal centro-sinistra e dal Partito Democratico, penso a persone che provengono dal mondo del sindacato, dal mondo della scuola, dal mondo delle associazioni, dal mondo dell'ambientalismo e vedo nella proposta di Alice Line un collante importante per recuperare queste esperienze e valorizzarle in una proposta credibile, una proposta politica e voglio ringraziare i tanti consiglieri comunali non solo del Partito Democratico che hanno deciso di metterci la faccia per sostenere Alice Line. Ringrazio anche Silvia Bidoli, un assessore di questa giunta che anche lei si è esposta pubblicamente per Alice Line pur non essendo iscritta al Partito Democratico. Penso che questa novità, questo fattore di sapere attrarre anche persone non iscritte al PD sia fondamentale. Ecco, io sull'ultimo punto della capacità di attirare Alice Line non l'ho ben capita perché per me era Bonaccini doveva essere un leader che attraeva. Ma queste sono le tue visioni politiche e le tue fantasie del famoso centro moderato nel senso che da quello che ha detto il segretario del Partito Democratico Mattia Franceschelli io ho potuto intuire che la scelta di Alice Line come eventuale segretario del Partito Democratico possa essere volta a recuperare voti a sinistra. Perché, come ti dicevo prima, cioè non dimentichiamocelo, in questi 15 anni l'emorragia di voti del Partito Democratico non è stata solo al centro, è stata anche nella coda, a sinistra. Cioè, non siamo più ai tempi dove rifondazione comunista era il confine della sinistra era un 5-6%. Cioè, adesso c'è ben più di un 5-6% dopo il Partito Democratico andando a sinistra. Io l'ho intesa così. Beh, tra l'altro io non avevo neanche ragionato su questa cosa, però il Partito Democratico magari sta anche cercando di contrapporre una donna a una donna. Perché da questo lato qua, la sinistra, che è sempre stata, diciamo, caposaldo della difesa, dei diritti anche delle donne, però non è stata ancora capace di candidare premier donna, cosa che ha fatto il centro-destra e c'è anche l'uscita. Sì, su questo si potrebbe aprire un lunghissimo dibattito, però quello che tu dici è un dato oggettivo. Sicuramente la candidatura e l'eventuale successo di Eilish Line contrapporrebbe una figura femminile con una marcata e spiccata identità di sinistra a quella che è Giorgia Meloni che anche lei essendo donna ha saputo presentare una sua modalità di essere una donna in politica, una donna al governo in politica. Quindi questo dato c'è. Io credo che la candidatura di Eilish Line sia questo, un richiamo a un'identità del Partito Democratico piantata a sinistra. Peraltro in questo percorso che è stato di Eilish Line partito quando il Partito Democratico cominciava ad andare in crisi ricercava la sua identità di sinistra è una persona che ha saputo esprimersi molto bene anche con l'esperienza che ha avuto in campo europeo su temi che sono oggi attuali i diritti sicuramente l'ecologia l'ecologia è un'altra di quelle cose che fa parte della sinistra per cui lui si chiama ecologia transizione ecologica vabbè tu la devi sempre la transizione ecologica va bene così cioè credo che la figura di Eilish Line intercetti soprattutto questo tipo di identità cioè il Partito Democratico sta cercando una sua identità quale? però io ti voglio fare una domanda ma secondo te l'elettore di sinistra si sente rappresentato da una tematica come la transizione ecologica allora l'elettore di sinistra che può avere la nostra età dalla nostra età in su forse è una tematica che non sente appartenente alla propria identità in maniera così forte ricordiamo noi abbiamo 14 anni ma se andiamo indietro e se pensiamo a quelli più giovani di noi ai ragazzi per loro quello è un tema molto importante e effettivamente un partito politico cioè l'Italia non è un partito che abbia i verdi in grado di collezionare un grande consenso attorno a sé il Partito Democratico può cercare di andare a intercettare quel tipo di sensibilità esiste faccio questa domanda perché sono d'accordo con te è una cosa che attira molti giovani Giorgio Meloni a Vien il suo percorso politico è partito proprio dalla gioventù di destra quindi Ellis Line ho l'impressione che insomma possa nelle tematiche attirare un elettorato di sinistra più giovane e che possa dare un futuro al Partito Democratico questo è un aggiornamento credo che sia il progetto Ellis Line un progetto più a lungo termine ad esempio del progetto Stefano Bonaccini e proprio per contraddirmi immediatamente il più giovane il Partito Democratico assieme a Resca il Consiglio Comunale ha scelto Stefano Bonaccini presidente della regione Emilia Romagna apprezzatissimo insomma in tutta Italia proprio come presidente della regione e soprattutto una persona che si dice si è apprestato molto anche a destra ne prova insomma queste le ultime elezioni regionali in cui ha vinto con una lega che tirava tanto lui è riuscito a rubare voti anche a destra quindi Alessandro Cortesi adesso ci racconta perché ha scelto nonostante i suoi 18 anni di virare su Bonaccini non a destra di virare Bonaccini ho scelto ho scelto di sostenere Stefano Bonaccini come segretario del Partito Democratico in quanto ritengo che sia l'unico che parla concretamente di futuro del PD e dell'Italia e lo fa parlando a tutti come ha fatto e come sta facendo tuttora da presidente dell'Emilia Romagna i temi che sta portando col suo progetto e che pone al centro del suo progetto sono i temi che io ritengo essenziali per un rinnovamento del PD quali sanità istruzione transizione ecologica diritti e lavori e in più pone al centro del suo progetto un altro fattore determinante ovvero l'ascolto l'ascolto per troppo tempo è mancato e per un partito che ha nel nome la parola democratico è necessario stare tra e con la gente ascoltare i bisogni della popolazione e lottare per quelle che sono le loro esigenze per me Stefano ha la sua forza tra chi lo sostiene per assicurare concretezza per assicurare una visione di futuro che vada avanti proceda guardi dritto e rinnovi quello che dovrebbe essere il partito progressista del nostro paese la caratteristica che può portare Stefano a sconfiggere il centro-destra credo sia assolutamente la concretezza sviluppata negli anni da amministratore della regione Emilia Romagna ma non solo in quanto lui ha un background molto ampio di carriera politica un background fatto di diverse esperienze da amministratore da militante soprattutto nel partito democratico che non ha mai abbandonato nonostante avesse avuto anche diciamo delle posizioni diverse da alcuni segretari da alcuni esponenti di picco di spicco del partito democratico ecco io credo che una così grande concretezza in quello che ha fatto in quello che fa nelle sue posizioni nei suoi progetti sia fondamentale per assicurare un programma politico al partito che possa essere concretamente applicato e non restare un'ideologia fino a se stessa che non porta mai a raggiungere gli obiettivi che si prefigge il partito io credo che Stefano Bonaccini non piaccia solo alle persone di centro-sinistra ma anche a quelle di centro-destra perché essendo amministratore di una regione così importante per l'Italia come l'Emilia-Romagna che sta andando veramente bene sta raggiungendo ottimi obiettivi al più alto del nostro paese e comunque ha una gestione che viene invidiata a 360 gradi in Italia ma non solo vuole avere una visione concreta un'applicazione concreta di quello che può essere la sua ideologia ma allo stesso tempo soddisfare i bisogni di chi in quell'ideologia non ci crede è carico questo Alessandro qua non scherza mica ricordava a me i tempi d'oro sì 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 era abbastanza acceso attivo insomma da quello che ha detto lui mi sembra che trovi un pochino di conferme quel percorso che abbiamo proposto noi ai video spettatori fino a poco fa cioè la scelta di Stefano Bonaccini è una scelta volta a quella cosa che era il nome della rivista della corrente di Andreotti ai tempi della prima repubblica concrete si chiamava così io continuo a vedere in un'eventuale scelta di Stefano Bonaccini il tentativo di andare a rosicchiare consenso verso il centro e comunque una ottima predisposizione eventualmente futura a quella che è l'amministrazione perché poi oh George parliamoci chiaro la politica si fa non si dice solo e non si racconta Stefano Bonaccini sicuramente ha avuto un percorso che è nei fatti che è appunto nella concretezza che è anche nella capacità di sapersi relazionare con le altre forze politiche e da questo punto di vista sia nel percorso che nella modalità che Stefano Bonaccini ha sempre proposto ha già dato prova di esserne in grado la politica è fatta anche di accordo quindi una scelta molto diversa secondo me io trovo faccio un ragionamento sui leader nel senso i premier che hanno vinto Berlusconi Giorgia Meloni a destra e anche Renzi a sinistra sono prima di tutto prima che essere rappresentanti di un partito sono leader io trovo in Stefano Bonaccini la capacità di non giocare in difesa nella raccolta di consenso non votate me perché rappresento un'ideologia votate me perché sono leader sono leader della regione Emilia Romagna posso essere leader della sinistra ha un atteggiamento passatemi Palmiro Cagini fatti non pugnette è molto pragmatico e questo attira i voti a destra in Emilia Romagna ripeto non ha vinto perché l'Emilia Romagna è solo di sinistra ha avuto la capacità di prendere voti a destra e manca questo lo fa perché riesce ad affrontare anche gli avversari con una sicurezza con insomma anche con dati di fatto perché l'Emilia Romagna è comunque una regione che va bene con tutti e mille problemi e non li stiamo negando però è una regione che va bene lui affronta gli avversari ed è io l'ho visto anche negli ultimi tempi nelle trasmissioni affronta anche i leader nazionali con una sicurezza che mi mette la curiosità di vederlo all'opera come segretario del partito anche con un'estetica che è sempre molto curato sì l'estetica diciamo dal primo malato regionale al secondo ha ricordato molto il Duce secondo me come sei venale pensavo mi citassi i maglioncini di Kashmir di Bertinoni no non siamo più quella sinistra ma come detto i due candidati alle primarie arrivano dopo insomma un periodo di crisi del centro-sinistra che ha perso tanti voti e ha permesso al centro-destra di insediarsi qui arriva una mia considerazione anche che il partito democratico sia in un loop infinito insomma come da titolo della puntata il PD anche questa volta ricomincia da capo quindi si fanno le primarie si sceglie il segretario o candidato premier lo si brucia fondamentalmente ci si accusa tutti all'interno si fanno le primarie e si ricomincia da capo questa cosa per me avviene da quando il partito democratico è nato con Walter Berti Croni praticamente concordi? si si tendenzialmente il corso è sempre stato quello con un problema fondamentalmente che ogni ciclo si perdono voti sempre di più sempre di più sempre di più sempre di più allora non credo che il partito democratico sia fatto da masochisti che ci tengono a farsene male oppure non lo escluderei a prescindere però abbiamo chiesto sia a Franceschelli che a Cortesi il loro punto di vista sul perché sia in questo loop infinito sentite cosa ci hanno detto io credo che il centro-sinistra in particolare il partito democratico sia in un loop infinito legato al susseguirsi di più segretari ma non solo anche di cambi di idee di programma di alleanze sbagliate insomma in un loop che non porta a niente per due motivi principali il primo credo sia quello di una mancanza di identità questo perché perché per troppo tempo c'è stata una confusione generale nel partito troppe correnti troppe divisioni interne che non hanno mai portato a rendere chiara la posizione che deve tenere il partito nei confronti degli altri nei confronti del paese nei confronti di quello che vuole davvero e questo lo ritengo una diretta conseguenza di quello che è il secondo punto che è mancato in questi anni al nostro partito e al centro-sinistra in generale ovvero l'ascolto l'ho detto anche prima io lo ritengo fondamentale l'ascolto come ti sostiene Stefano a queste primarie perché l'ascolto è la base di quello che deve essere il partito l'ascolto è la base da cui partire per arrivare a capire chi è davvero il partito democratico chi è davvero il centro-sinistra ed è per questo che è necessario ascoltare i propri elettori e la propria comunità per far sì che quello che gli elettori sentono come bisogno è quello che deve poi rispecchiare il partito quello che poi deve andare a richiedere spesso ci sono state troppe posizioni prese a Roma da pochi per conto di tanti elettori e questo non beneficia a nessuno se non a quei pochi che sono là a Roma a fare la classe dirigente e a star là prendendo a tavolino due decisioni che poi vanno a creare questo loop infinito questa confusione e che non riescono ad esprimere davvero quelle che sono le esigenze i bisogni dei cittadini che votano il partito democratico o il centro-sinistra in generale il loop per uscire il modo per uscire dal loop non è facile ma io penso che la chiave di tutto sia la partecipazione delle persone intanto e la coerenza di chi si propone come carica politica e come carica di partito intanto la coerenza di poter di portare avanti una proposta che sia quella la coerenza di scegliere alleanze che siano coerenti con i propri programmi e la capacità di sapere stimolare una partecipazione reale del proprio elettorato di chi si riconosce in una proposta io penso che sia importante rimanere leali e coerenti io sono uno che è sempre stato leale diciamo a chi era segretario del partito anche quando c'era Renzi anche se non lo avevo mai sostenuto alle primarie dell'epoca perché ritengo importante non fare del male alla propria comunità politica però sono uno che ritiene molto importante la coerenza delle proprie posizioni io non sono mai stato d'accordo in certe politiche per esempio sul Job Act e adesso lo dico tranquillamente non cambio una virgola di quelle posizioni altre persone adesso vedo per esempio che i primi a demolire l'immagine di Renzi sono quelli che all'epoca erano in prima linea per sostenerlo quindi insomma vedo un po' alcune contraddizioni io penso che queste contraddizioni non facciano il bene del partito penso che il partito debba essere guidato da persone che abbiano la coerenza dalla loro parte che abbiano la vicinanza con le persone e che non facciano scelte guidate dalle convenienze del scelgo una certa corrente un certo candidato perché è più vicino a me mi conosce di qua di là ma perché porta avanti le mie idee perché mi ci rispecchio vedo in Stefano Bonaccini e in Nellie Schlein due persone di grande valore penso che come partito democratico di cento siamo molto uniti nel ritenere due candidati di spessore e siamo così uniti che possiamo permettersi anche di dividerci e sostenere alcuni l'uno alcuni l'altro perché è proprio il bello della politica tutelare il pluralismo delle idee portare tante idee sul tavolo decidere una linea che prevale portare avanti quella io lo dico da sostenitore della Schlein se vince Bonaccini sarò il primo a sostenerlo ci mancherebbe altro sono sicuro che sarà un candidato bravo autorevole vedo in Schlein un'opportunità migliore per cambiare rispetto al passato per rinnovare il partito quindi Nick hai capito ci vuole coerenza contro nepotismo cioè sono due visioni due problemi che evidentemente sono stati sentiti in maniera differente allora sul nepotismo cioè di Roma o di Ferrara magari è qualcosa che anche nel centro-destra si avverte spesso nel senso che le decisioni vengono prese dall'alto e poi calate sulla testa al basso dall'altra parte la coerenza di Franceschelli si riassume fondamentalmente secondo me è così se scegliamo un segretario per favore non demoliamolo siamo coeriti con la nostra scelta però la sinistra è da tanto tempo che non riesce a allora io ti dico secondo me il partito democratico in questi suoi primi 15 anni di vita è riuscito a fare politicamente un'opera grande non lo dico con ironia nel senso che è riuscita a riprodurre e a intercettare a incamerare tutte quelle che sono state le dinamiche del più grande partito politico che la storia d'Italia repubblicana abbia mai avuto ovvero la democrazia cristiana per cui il gioco delle correnti per cui la minaccia alla segreteria il manuale Cencelli nella distribuzione degli incarichi e negli equilibri di potere segno che quindi il partito democratico con tutte le sue contraddizioni comunque è un partito serio il problema in cui non hanno compiato la democrazia è che non li compiono le elezioni ecco il problema è proprio quello nel senso che a fronte di un modello democrazia cristiana spero di non offenderli elettori del partito democratico con questa dichiarazione a fronte di un modello democrazia cristiana non si è riusciti poi a fare seguito a quello che ha fatto la democrazia cristiana cioè essere orgogliosamente un partito di governo il partito democratico continua a essere e lo vediamo anche in questa dialettica fra Elislein e Stefano Bonaccini combattuto fra divento una forza di governo o mi richiamo alla mia identità di sinistra no? e questo secondo me rende sempre difficile evitare che ci sia questo loop perché queste due anime esistono ma ripeto in una struttura di partito che è di un partito maturo il problema è che quando hai 18 anni se non prendi la patente non puoi guidare si deve prendere una direzione chiara di crescita io ci aggiungo un'altra cosa l'impressione che ho da Beltroni in poi è che il partito sia fatto da insicuri cioè mi spiego ha sempre subito la prepotenza del centro-destra Berlusconi anche nei modi non si può dire che ci è andato giù liscio e la sinistra pur foronte di una superiorità morale che è sempre millantata e forse eccessivamente anche però sembrava sempre doversi giustificare nel suo essere sinistra continuo con la mia analogia di prima per agganciarmi a quello che hai detto la famosa democrazia cristiana che nasceva dal partito guardate il sorriso quando ne parla che nasceva dal partito popolare italiano nasceva con una precisa identità e poi via via nella sua evoluzione arrivò per non spaccarsi ma suddividersi in varie correnti quelle un po' più conservatrici quelle un pochino più l'inziate no lascia stare quello è arrivato dopo il partito democratico fatto il contrario nasce dall'unione di identità profondamente diverse i di esse non erano la margherita no 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 intendiamoci quindi già e poi c'era la componente socialista c'era la componente una parola più massimalista più ecologista cioè nasce già come un purpurri di cose che potevano stare bene a sinistra ma non nasce con un'identità ben definita ed è ancora quello è il dibattito che ha quindi è una macchina che è cresciuta la famosa la giuliosa macchina della guerra di Occhetto che è cresciuta ma senza mai trovare risposta a queste domande e lo ripeto anche in questo dibattito per scegliere il nuovo segretario è ancora quella la domanda alla quale sta cercando risposta da che parte vogliamo andare più al centro o più a sinistra per ripartire è per quello che è un loop difficile da rompere sì io diciamo rimango alla mia convinzione che il problema sia l'accettazione del leader nel senso siamo parte dello stesso partito il ragionamento è questo abbiamo un leader non la pensiamo proprio diametralmente uguale però accettiamo che il leader è quello accompagniamolo aiutiamolo questo dovrebbe fare il centro-sinistra e fino ad ora non c'è proprio riuscito però una volta che si è riunito il centro-sinistra sotto un leader cosa deve fare per ritornare a battere la destra o perlomeno per essere competitiva elettoralmente e ho fatto questa domanda perché pur essendo io un elettore centro-destra voglio che ci sia un miglioramento della proposta politica se da una parte diciamo c'è un crollo gli altri sono autorizzati a fare tutto e il conto tutto invece se da un'altra parte nel regime di concorrenza c'è una proposta molto valida sei costretto a fare meglio a tua volta per rincorrere o per cercare di tornare insomma a vincere quindi ho voluto fare questa domanda ai nostri due ragazzotti cosa deve fare il centro-sinistra per tornare a essere competitivo e provare a vincere contro il centro-destra innanzitutto queste elezioni politiche non le ha perse solo il PD sono le elezioni in cui c'è stata la più grande estensione di sempre elezioni politiche e quindi la perdita di fiducia non è solo nei confronti del Partito Democratico ma nei confronti della politica in generale e questa è una brutta notizia per tutti il Partito Democratico alle elezioni politiche aveva il programma più avanzato di sempre dal punto di vista della tutela del lavoro della tutela dei diritti della tutela ambientale eppure ha perso perché il fatto è che non era poco credibile il programma era poco credibile a chi lo portava avanti c'erano persone che erano sempre quelle che nel corso degli anni hanno sostenuto tutto il contrario di tutto era chiaro che non poteva essere un risultato soddisfacente quello che veniva fuori l'obiettivo di questo congresso è rinnovare il partito a partire dalla sua classe dirigente ma anche passando per una linea politica e la linea politica che risulterà domenica sera da queste primarie e successivamente con l'insediamento dei nuovi organi dirigente deve essere una linea politica chiara e molti dicono che il PD debba ripartire dagli amministratori e questa è una cosa che condivido in parte nel senso che fare amministrazione sul territorio e lo so bene è molto difficile ed è fondamentale però essere amministratori non è di per sé una linea politica perché ci sono amministratori che hanno delle idee amministratori che ne hanno altre anche all'interno del partito democratico l'obiettivo è fare prevalere una linea politica chiara che possa dare un'identità al partito che possa essere riconoscibile come il partito del lavoro della tutela ambientale dei diritti il partito europeista in Italia che possa essere riconosciuto nel popolo del centro-sinistra e io mi rendo conto che molti elettori di centro-sinistra ad oggi sono sfiduciati dopo la sconfitta alle elezioni politiche il PD che si sta piano piano ricostruendo in questo lungo congresso ma è importante dare ognuno il proprio contributo perché se ognuno lo fa alla fine piano piano si riesce a cambiare qualcosa davvero per tornare competitivo al partito democratico servono un progetto coerente concreto e convincente troppe volte negli anni sono mancati questi fattori all'interno della presentazione delle candidature e per troppo tempo ci sono state scelte non funzionali a quello che è quello che vuole il popolo la comunità democratica di questo partito io credo quindi che bisogna recuperare la fiducia di chi l'ha smarrita soprattutto di quelle persone che non si sentono più rappresentate perché non ascoltate da questo partito oltre che tornare su temi che anche troppo spesso sono stati ignorati perché un partito che si reputa progressista ma non parla di diritti sociali e civili che sono le fondamenta di quello che oggi viene chiamato progressismo e socialismo in Europa e nel mondo non può essere definito un partito di questo tipo per questo serve cambiare determinate lotte serve cambiare determinati temi e serve riconquistare tutta quella parte del nostro elettorato che si è smarrita proprio perché questi temi non sono più stati messi al centro di quello che è l'obiettivo del nostro partito bene Nick questa è la loro analisi io in tutto quello che hanno detto fino ad ora ho notato una mancanza che mi ha sorpreso non si parla di Europa sì beh io credo che questa sia stata una fragilità del partito democratico negli ultimi dieci anni ma te la devo spiegare fragilità perché il partito democratico è stato forse la prima forza politica a definirsi orgogliosamente europeista eh beh però da un punto di vista secondo me di analisi storica della politica italiana il partito democratico ha saputo intercettare prima di tutte le altre forze politiche il fatto che essere europeisti o riconoscersi in un'identità europea fosse una questione politica il problema come sempre è che poi il partito democratico si è dimenticato di questa cosa qua io ti rilancio c'è un'altra parola che ho sentito dire ai nostri due ospiti più volte che è progressismo che secondo me è un'altra ricetta della sinistra che potrebbe essere vincente che intuì uno dei tuoi dei tuoi pupilli della seconda repubblica Massimo D'Alema fu lui il primo a lanciarsi nella sinistra progressista quindi superata diciamo la fase post comunista il primo barlume di identità di sinistra di centro-sinistra fu il progressismo anche lì allora i DS con D'Alema lo intercettarono questa cosa non ci hanno dato seguito adesso lo sentiamo dire e secondo me sia con Elislein che con Stefano Bonaccini c'è la possibilità di essere un partito progressista ma esattamente come vale per un'idea quale l'europeismo saranno in grado di portarla avanti questa volta io concludo su un ultimo pensiero che mi sono fatto allora dopo il fascismo l'essere di destra e si aveva quasi paura a dichiararsi di destra ci sono voluti tot anni per sdoganare e adesso abbiamo un premier addirittura di destra io credo che dopo Craxi ci sia una parola che si ha paura ad utilizzare socialismo io credo che la sinistra debba tornare a non aver paura di dichiararsi socialista in Europa l'hanno fatto in Italia invece da tangentopoli in poi questa parola non viene utilizzata più si ha paura si parla di progressismo ma non di socialismo e io ricordo invece che insomma il partito socialista italiano è stato un partito che in tutti i suoi limiti di tangentopoli che comunque ha preso tutta la politica italiana e questo ci tengo è storia però io credo che sia ora di sdoganare come a destra la fiamma stata sdoganata a sinistra è ora di tornare a sdoganare il socialismo però ti sei dato proprio una ricetta esclusiva però ti dirò posso arrivare a condividerla nel senso che comunque forse sarebbe quella chiave che metterebbe d'accordo il tuo amore per il centrismo e la moderazione e magari invece l'identità un pochino più schierata di altri e il partito democratico questo deve fare perché di fatto non è un partito estremista ma non è neanche un partito di centro quindi forse quella lì potrebbe essere una chiave io credo che in Italia funzionino le radici come adesso hanno funzionato le radici della destra che è andata a ricercare una propria identità lì io credo che la sinistra debba ritrovare le sue radici ce la faranno? ce la faranno o no lo scopriremo in base al nuovo segretario nazionale tra Stefano Bonaccini e Dallish Line chiunque voglia andargli a votare come avete sentito il partito democratico di centro si è organizzato ma lo trovate in tutta Italia i gazebi per andare a votare nel caso questi video stiamo scoprendo che vengono guardati anche a Milano quindi salutiamo il pubblico milanese saranno i socialisti di Milano esatto e niente diciamo sapete che noi poi abbiamo le nostre malattie siamo appassionati di elezioni quindi volevamo fare questo caffè così insomma e noi vi auguriamo buona domenica buon carnevale nel caso il tempo regga se no ci vediamo domenica prossima e tanti saluti e buone primarie ok Grazie.